Ci siamo ragazzi, ci siamo dopo tanta attesa capoccemia e siamo finalmente arrivati a sabato 10 giugno Ma cos'è sabato 10 giugno se non il compleanno di Raffa Leao Un applauso, tanti auguri al nostro Raffaellino dopo il grande rinnovo di contratto Speriamo non sia rimasto a tal punto male da chiedere una cessione nell'immediato futuro dopo l'aglio di Maldini Scherzi a parte, speriamo che questo sabato 10 giugno noi tifosi rossoneri lo ricorderemo sempre negli anni Sia come il compleanno di Raffa Leao ma anche come un qualcosa che possa rimanere nella storia E possa rendere triste l'altra metà di Milano Detto questo, scherzi a parte Ragazzi perché questo video? Dopo aver eliminato in qualche modo le scorie dovute al tragico addio di Maldini Soprattutto per quanto riguarda le modalità Ripeto, il mio filone di pensiero, la mia idea è quella che tu Geri Cardinale hai tutto il diritto Di cacciare Maldini, di licenziare Maldini Quindi se effettivamente pensi che i tuoi soldi venivano spesi in maniera errada da parte sua Ci sta, è lecito Però ricordati che le modalità con cui lo fai Fanno di te l'uomo che i tifosi rossoneri vedono Quindi per quanto riguarda le modalità Stendiamo un velo pietoso sopra Questa è una cosa che rinfaccerò a questa proprietà Da oggi fino al giorno in cui Geri Cardinale deciderà di vendere il Milano E veniamo qui al noto del video Molte persone, già dopo l'addio di Maldini Il garante del progetto, colui che in qualche modo ti dava quella fiducia Quel consenso assenso Senza fare praticamente nulla Godeva di una stima infinita eccetera eccetera Dopo il suo dio vedono il Milano e colare a picco verso la nuova Bantanera Ora, ragazzi Piano, nel senso Geri Cardinale è un uomo di sport Geri Cardinale si è ficcato in una miriade di progetti sportivi E ad oggi, ad oggi È sempre uscito vittorioso È riuscito per quanto riguarda il calcio A entrare all'interno di una quota del Liverpool Poi rivendendola Non mi ricordo se tutta o in parte A molti più soldi di quanto l'aveva presa È entrato nel Tolosa Squadra che era in Serie B francese È riuscito in due anni Non solo a farla salire in Serie B francese Ma anche a farla qualificare in Europa League Vincendo la Coppa di Francia Quindi ragazzi Non è uno sprovveduto da un punto di vista Da un punto di vista degli investimenti Cosa dico? Perché dico questo? Per cercare di tranquillizzarvi Allora Geri Cardinale è sicuramente un uomo Che vuole fare del Milan un progetto vincente Purtroppo si è macchiato La storia Quando ha detto che fino a tre mesi fa Fino all'inizio della trattativa Con il Milan Per l'acquisto del Milan Non sapeva che il Milan Avesse meno Champions solo Dei Real Madrid in Europa Eccetera 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 Ma sicuramente Lui non vuole perdere i soldi Ecco perdere i soldi È l'ultimo Dei suoi pensieri Perché dico questo? Perché Il fondo Redbird ha sempre Dico sempre Dimostrato questo È un fondo speculativo Un fondo che acquista Con i soldi degli investitori Passa 5, 6, 7 anni Rivende Ha molto di più Adesso è ovvio che Se Geri Cardinale vorrà ricavare qualcosa dal Milan Deve fare due cose Che vanno di pari passo Numero uno è Edificare lo stadio Ecco perché Si è messo in prima persona In questa intricata vicenda Il secondo obiettivo principale Da centrare È sicuramente Quello di andare A far ottenere Alla squadra Risultati sportivi Perché solo con I risultati sportivi L'aumento del valore della rosa Chiami sponsor Che sono disposti A dimmettere Soldi E ancora soldi E ancora soldi All'interno del Milan Un Milan che praticamente Quando è stato preso da Elliot Vantava 200-210 milioni Di fatturato da sponsor Siamo arrivati a qualcosa Come del 150-360-370 Destinate a salire Con una nuova partecipazione In Champions È quel che ne deriva Quindi da questo punto di vista Io vorrei innanzitutto Tranquillizzare i tifosi rossoneri Sono tranquillo anche io Sono tranquillo anche io Perché dico questo Io sono convinto Che questa finestra Di mercato Il Milan La conduco in maniera eccellente E perché penso questo Per due ragioni Fermo restando ragazzi Ora non pensate Che io sia pro L'addio di Maldini Assolutamente no Io sono contro L'addio di Maldini Contro le modalità Dell'addio Secondo me Maldini Contrato tutto il periodo Ha fatto un ottimo lavoro Eccetera 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 Ora dobbiamo andare avanti Noi ti fiamo per la C-Milal Non ti fiamo per la C-Maldini Ok? Quindi cerchiamo Di determinare Le strategie future Dopo l'addio di Maldini Dopo essersi messo Sul naso Una tale fetta Di popolo rossonero Non è che Furlani Non comunica a Cardinale Le conseguenze del gesto Certo che lo fa Sicuramente Si vedranno anche Dal punto di vista Di abbonamenti e così via Però Sono convinto Che la proprietà Proprio per In qualche modo Legittimare questa scelta Conduco un mercato eccellente Anche solo per dire Avete visto i calciatori Che abbiamo preso Siete sicuri Che poi Maldini Avrebbe preso Gli stessi Siete sicuri Che la nostra scelta Ancora Siete sicuri Tutt'oggi Che la nostra scelta Presa Il lontano Giugno Quel maledetto Giugno Si è rivelata Sbagliata o no Io sono convinto Che cambieranno Un po' di strategie Per quanto riguarda Il mercato Allora Maldini aveva fatto Una battaglia Per quanto riguarda Le commissioni esose Da parte dei procuratori Di calciatori Una battaglia Che insieme A commisso Della Fiorentina Portava avanti A torto A ragione Lo vedremo Più a ragione Perché poi La FIFA Si è anche resa conto Di questa Diciamo Di queste Richieste Insostenibili Da parte dei procuratori Descesi in campo Mettendo le leggi Che entreranno in vigore Alla fine Di questo mercato Dove praticamente Dopo il 2023 Finalmente i procuratori Vedranno una percentuale Di commissione Che sarà sempre Solo quella Non più di quella Quindi A meno che non ci siano Poi cose in nero Vera A Juventus Ma detto questo È un altro capitolo Sono convinto Che Con Furlani E Moccata Possiamo in qualche modo Vedere Numero 1 Il Miral Catapultarsi Sul parametri Zero Interessanti Ricordiamo che Furlani Era quello Che aveva scavalcato Maldini Aveva chiamato Il procuratore Di Di Barra L'anno scorso Per informarsi Una mossa Totalmente senza senso Che giustamente Aveva fatto girare I coglioni A Maldini Perché era In quel momento Il capo dell'area tecnica Ma lasciando stare questo Potremmo vedere Finalmente Trattative più snelle Purtroppo ragazzi Maldini Non era visto Di buon occhio Né da Elliot Né in qualche modo Da Redbird Veniva sempre Pedinato Da babysitter Di Redbird Che dovevano In qualche modo Vedere Il centesimo Che andava a mettere Maldini Andare in qualche modo A dare il consenso Andare in qualche modo A mettere Il potere di firma Quindi Maldini Ragazzi Non era libero Per un cazzo Ogni trattativa Vedeva sempre Tempi biblici Perché lui Doveva poi Andare a chiedere A Redbird Il permesso Per aumentare Una certa cifra Eccetera Adesso A capo dell'area tecnica Ci sono due Figure Moncada Furlani Di cui Redbird Si fida ciecamente Soprattutto Furlani È l'uomo Di fiducia Di cardinale Messo Al Milan Per gestire il Milan Quindi da questo punto di vista Io mi auguro Da tifoso rosso nero Di vedere Trattative più snelle Più veloci Nei tempi Soprattutto Senza Bisogno Di 280 mila Per messi E questo è il secondo Aspetto positivo Che mi auguro Di vedere Terzo aspetto positivo È il budget Ragazzi Anche È solo Per tagliare Dare una sorta Di Monito Tifosi rosso neri Obiettivamente Io non mi aspetto Un Milan Che ricalerà Picco In Mantere Ritorneranno I periodi Dei mesba Dei traore Mamma mia Non mi ci fate neanche pensare Secondo me Sia Per motivi di business Da parte di cardinale Sia Soprattutto Per dare una sorta Di Come si dice Avvertimento I tifosi rosso neri Per dimostrare Per legittimare La propria scelta Di cacciare Via Maldini Secondo me Ecco Jerry Cardinale In fondo Redbird Faranno Un ottimo Un ottimo Mercato Poi ovviamente Secondo me La scelta di Maldini Farà vedere In qualche modo La scelta di cacciare Maldini Farà vedere Tutte le sue lacune Soprattutto Da un punto di vista Umano Soprattutto Da un punto di vista Di coesione Del gruppo Ecco Nei periodi bui L'anno scorso C'era Maldini Che ogni giorno Era a Milanello A seguire la squadra A incoraggiare i ragazzi A tenere i giocatori uniti Attorno all'allenatore Eccetera Eccetera Basterà Il solo bione A fare questo Ecco Io I dubbi Li butto più Su questa parte Non tanto Sul mercato Detto questo Ragazzi Il video finisce qua Fatemi sapere Cosa ne pensate Mi raccomando Stasera Tutti davanti La televisione A sostenere Il migliore Allenatore del mondo Mi raccomando Non devo dire io Chi Chi Il tifo rosso nero Dovrà attifare Quale squadra Il tifo rosso nero Dovrà attesare Sia mai Ci sia un milanista Che in questo canale Verrà mai Qua sotto A commentare Durante la giornata Di oggi E Però Dobbiamo Diffare Le tagliate Non mi fate seccare Detto questo Ragazzi Vi ringrazio Per essere stati qui Con me Like al video Commentate Condividete Amici ragazzi Siamo a 950 Raggiungiamo I 1000 iscritti Il miglior tempo possibile Correte anche Iscrivervi al canale Di Domebet Josip Iosef Correte a recuperarvi L'ultima live Che abbiamo girato Sul canale Di Domebet Ragazzi Risate Veramente È stata una live Di risati Addirittura Non riuscivo neanche a parlare Vi ringrazio Per essere stati qui con me Vi do appuntamento Direi nella giornata Di domani Dove andremo Ad analizzare Un po' Il tutto Quello che succede In orbita Miral E non solo Grazie ancora Buona giornata E buon pranzo A tutti Bella raga